Cretino, del gaglioffo, peraltro gaglioffo è un aggettivo molto curioso, si vede che se la passano perché l'azzolino mi ha dato del gaglioffo lunedì e la Fornero mi ha dato del gaglioffo il mercoledì, dico all'azzolina e alla Fornero che sono orgogliosamente gaglioffo, meglio gaglioffo che azzolino o fornero, su questo non cambierò mai idea. Però, dai, lei da tre mesi che sta signora gioca coi banchi con le rotelle.